Non fa questo Benvenuti al Brazo Crew Andate da Golda.com Ci sono nuovi metodi a disposizione Usate il codice coupon BRAZO CRIW Ciao a tutti ragazzi Benvenuti ancora in un nuovissimo videotipo BRAZO CRIW E oggi Finalmente Abbiamo raggiunto i 3000 mi piace sulla mia pagina E i 10.000 mi piace sulla pagina di Sulla pagina Sul canale di Mike E' venuto a trovarmi E infatti ragazzi sono venuto qui a casa BRAZO CRIW E oggi spacchettiamo insieme Ragazzi Ce l'avevi chiesto in troppo Fate lo spacchettamento insieme Dopo la partita Quella che abbiamo fatto ragazzi Che lui mi ha stracciato Mi ha proprio distrutto Avevo il momento un contro Diciamolo Però Dopo i Toti Dobbiamo trovare qualche cosa Perché io non ho trovato un Toti Niente Lui invece due L'aveva trovare Quindi ragazzi oggi passerò un po' di provaggine Al buon vaso Spacchettiamo a casa sua Quindi accanto suo Sperando che Riuscire a trovare qualcosa Dai eh Quindi ragazzi lasciate un bel pollicione in su E iniziamo Tanti tanti pollicioni in su Anche se entrerò a un cazzo Vabbè vabbè Ti avevo detto sicuramente Non trovo un cazzo Vabbè Vabbè Iniziamo Iniziamo Vabbè va Vabbè va Dai questo è un sacchetto io Vai A Sardino ti porta bene Sola sempre Sempre Lo so Provo C'è Ci riprovo io Si è buggato FIFA Oh Oh Mi l'ho detto Guarda Mi sa che la fortuna non stava Oh si è buggato Che cazzo È muvvano È troppo culo Ah no Vabbè Firmino Agass Il settimo portiere Del campo Del belmo Agass lo trovo sempre Mortacci Su Tanto se Da mamma Da mamma Oh Howard No Howard fa schifo Non fa schifo Mi piace Mi ci raccontare A me piace Howard Ti piace Faccio del distancing ADoS S'E' CASCADUTTO Oddio È CASCADUTTO E' CASCADUTTO E' CASCADUTTO E' CASCADUTTO Oaaah Oh S'E' CASCADUTTO Oddio È CASCADUTTO È CASCADUTTO È CASCADUTO È CASCADUTTO Oddio ASSISTORT Oddio 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 Eh fatto ca' a tutto AAAAAAAAA Fai schifo porco tu, fai schifo, fa schifo Stommo ragazzi No, non c'ho parole, lei ha trovato Bale, hai trovato Bale prima, levato il gioco, levato il gioco Non voglio manco sapevo quanto costa, fai schifo porco tu, io me ne faccio Fai senti male raga, per te stai senti male davvero no? No, però mi ha girato, mi ha girato la testa, aspetta un attimo Stai, stai muovendo, lo so agitato troppo porco Mi ha girato troppo la testa adesso, fai capire, fai capire Cioè, ma è una cosa del genere, oh, ti giuro sembra, oh guardate raga, è il mio account È il mio account, è il mio account, leggete porca mignotta, io con sto account Che voglio comprare, metto all'asta, mille euro No è assurdo, è buggatissimo sto cazzo di account Qua però io, favo pure io sto aggrondando Ragazzi, io però qua potrei dire che l'ho trovato io perché Sto a casa mia, che è un bel cazzo Sto a casa mia Guarda, vabbè, non mi fai che niente raga, trovo Ronaldo Due volte, due volte, Ronaldo Alla dove ne devi andare Due volte, Ronaldo raga, ragazzi, mi sa mai succedere Ciao a tutti, ciao Vabbè ragazzi, quantomeno penso di una cena pagata E quindi niente ragazzi, quanti like mai c'è sto video? Ma non so, è schifo Dopo tanta, tanta richiesta, cioè, sembra quasi fatto apposta No, sembra quasi finto, perché tanto sono schifo Sicuro, sicuro Non è vero Sicuro mi scriverà qualcuno, vabbè, manco io Non so manco come chiude sto video Comunque ragazzi 3.000? 3.000 No, qua ragazzi, cioè, io non lo so Qua conosci 10.000, 20.000 Cioè, qua chi non lascia mi piace, cioè, non so, non crede Non so, manco che cazzo devi dire Ti piace, ti piace cosa, ti piace Ronaldo? Ti piacerebbe Ronaldo? Niente ragazzi, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 mi piace per questo video Ringrazio Mike Shosha che sta rosicando Perché, a parte io sta rosicando No, rosicando perché ormai gli devo darlo 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200 e 2 Io gli devo darlo Sì, si è fatto, oh regà, si è fatto 15 milioni Si è fatto 15 milioni modi che poi vengono a chiedere i crediti se se questo video raggiunge i 5 mila mi piace 5 mila sono tanti no no ma non è quello che mi sto a vergognare mi sento a disagio mi sento a disagio se io ho trovato i toti ma questo ho trovato due volte ronaldo bel 7 pacchetti dopo ronaldo la tappa controlla quindi 5 mila mi piace e li spacchettiamo sotto il periodo dei toti si dai ragazzi io penso che eguagliare una cosa del genere si è messo a vergognare voglio essere molto sincero no quando abbiamo parlato di spacchetta insieme ha detto sai che c'è il culo che c'è il culo mi sa che cazzo esce facciamo pure paura dillo però facciamo pure paura da arrivo a qua spacchetta non trovo un cazzo si io lo giuro e lui ha detto vabbè si lo famo no farà ride perchè non troveremo un cazzo no quindi famo la cucina del merda oh io me l'aspettavo sta cosa cosi c'è no assurdo no me sto mette paura no ma succede che poi sei pure un pazzo perchè stai a spacchettare con i 30 esperimenti pieni penso che esce in un altro bene lo so è vero quello si passate sul canale di maicciocia e rega andate a vedere i vecchi video perchè lui adesso sa fa tutto quello eh oddio ha trovato ronaldo abbiamo trovato ronaldo ma due volte nel giro dei dieci minuti porca troia dieci minuti comunque dai ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi bella un abbraccio un saluto e al prossimo video bella no ma mangia che c'è in culo vai staccio è schifo